Ciao ragazzi, come state? Mi trovo in questo luogo magnifico per consigliare Melody di Sharon May Trapper. Melody non può scrivere, non può parlare, non può comunicare, non può camminare. Quasi tutti i suoi medici e i suoi insegnanti la ritengono incapaci di apprendere. Eppure Melody è l'alunna più intelligente della scuola e nessuno lo sa. Se solamente potesse esprimere che cosa pensa, che cosa prova. Però un giorno scopre un sistema che le potrebbe permettere di parlare. E con le parole potrà esaudire i suoi desideri, e beh, potrà volare. Questo è un libro davvero molto intenso. Io nella mia classe ho un ragazzino speciale, proprio grazie a lui e a Melody ho capito quanto siamo fortunati. Questi ragazzini non hanno tutte le nostre possibilità, eppure non si lamentano mai, guardano sempre alla vita sorridendo con un figlio ironico e gioioso. Ecco, dovremmo apprendere da loro. Sono un esempio per tutti noi, per la loro resilienza e per il loro modo di vivere. Ciao Melody, grazie Diego, un bacione.